La pugile erpina Carmela Meldognaco è in lizza per la convocazione ai campionati europei femminili elite in programma Sofia-Bulgaria dal prossimo 14 novembre. La pluricampionessa di Montoro è ritiro con la nazionale azzurra nel centro tecnico di Assisi e sta cercando di convincere il commissario tecnico Renzini a consegnarle una maglia azzurra nella categoria dei 60 kg per questo suo primo campionato europeo. La Donniaco è campionessa italiana ed universitaria nonché vincitrice dell'ultimo guanto d'oro. Praticamente la pugile di Montoro ha realizzato una sorta di grande slam impreziosito dalle convocazioni in nazionale dalla medaglia d'argento conquistata sempre in Bulgaria nei 64 kg al Bakan International Tournament. Questo percorso le ha consentito di ricevere la medaglia di bronzo del CONI per meriti sportivi che le sarà consegnata dal presidente regionale Cosimo Sibiglia il prossimo 2 dicembre nella manifestazione organizzata presso il calcere borbonico. Intanto il caudino Domenico Meccariello, arbitro e giudice internazionale di Pugilato, è stato nominato responsabile dei giudici ed arbitri della campagna per il prossimo quadriennio olimpico. L'elezione di Mimmo Meccariello è una conferma della crescita del pugilato campano ed irpino in ogni ambito della federazione. Per Meccariello è il primo passo verso una più che probabile convocazione come arbitro e giudice alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.